Pianoforte! Al pianoforte! Allora, guarda così, siamo besti in mano. Allora, quindi al pianoforte Walter Calloni, giusto? No! Vogliamo quello che l'ha detto. Chi più forte? Gioia Boruso! Da Napoli, ragazzi! Grande Gioia! Grande Gioia, generosissima. E' arrivato oggi da Napoli per suonare qua per voi. E dobbiamo dire tra l'altro che non è neanche in formissima, quindi doppio applauso. Allora, un po' ciaccato. Doppio applauso per Gioia, grande Gioia, veramente il cuore. Buon divertimento, via! Anche per le sorelle! Andiamo! Allora! Andiamo! Andiamo! Sous-titrage ST' 501 ... 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